vedi caro gravina c'è sempre un prezzo da pagare pure noi vorremmo sapere chi ci ha mandato l'anno scorso tutto quel caos e quel bordello che c'è stato pure noi siamo in attesa di sapere chi c'è dietro a tutto questo quindi devi sapere una cosa tu lo sai molto bene che nella vita prima o poi si presenta un prezzo alto da pagare come si dice oggi a me domani a te ride bene te ride ultimo però c'è una piccola differenza che noi siamo la juventus e tu e i tuoi amici di merenda non valete un cazzo buona fortuna al più presto sai cosa ti voglio se sai come ti voglio non te lo dico ma immagino ciao